Volano i villaggi, crollano le seconde case, annaspano gli alberghi, alle cui presenze non corrispondono adeguati guadagni, rosicchiati da tasse e concorrenza a volte sleale di BNB. E' questo in sintesi lo stato dell'arte di questo primo scorcio d'estate nel Salento, che per quanto tiri la volata del turismo nazionale, registra un calo rispetto allo scorso anno, tra il 5 e il 20%. Vincente la formula all inclusive, ma dominante, resta il mordi e fuggi, specchio della crisi che ha divorato il centro medio. Se passiamo ad Otranto registriamo già un meno 8% in questo periodo. Gallipoli, bene gli alberghi, malissimo le seconde case. Ugento, grazie a quei bei villaggi, vanno benissimo, ma anche ad Otranto Bravo Club ha registrato un aumento del 50% addirittura rispetto all'anno precedente. Ma avviene meno il mercato interno. Mentre prima a luglio si faceva il pienone ad Otranto e quindi si riversavano all'interno e sfruttavano il territorio con altri servizi, oggi è calato anche quello. I campeggi non ne parliamo perché la causa più importante di questo calo è proprio il fattore meteorologico. Quindi noi registriamo questo calo del 5-10% negli alberghi, escludendo quelle località tipo Lecce dove si lavora molto meglio. Invece abbiamo un crollo nelle seconde case.